Firenze fa discutere non solo la tranvia ma anche la realizzazione delle linee flash, ovvero autobus che viaggiano su corsie preferenziali protette. Nel quartiere di Campo di Marte, Bella Riva non le vogliono, soprattutto perché realizzarle comporta la diminuzione dei parcheggi anche per i residenti. Ma Palazzo Vecchio si dice pronto a compensare la perdita dei posti a auto. Frida Zampella Le nostre ragioni, le ragioni che vengono dette, la possibilità di correggere come abbiamo fatto mille volte nei programmi di Europa. A Firenze, dice il vice sindaco Matulli, i cittadini non sono mai contenti, contestano la tranvia, contestano le linee flash degli autobus. Al quartiere 2, assemblea infuocate, mobilitazione per dire no al progetto delle linee veloci 17-14. Linee considerate anche dai sindacati ATAF da proteggere in quanto funzionali alla mobilità fiorentina. Per il comitato che riunisce contestatori di Campo Marte e Bella Riva non serve però, perché il risparmio di tempo rispetto all'attuale linea sarebbe di solo 3-5 minuti. La realizzazione di corsie preferenziali è però la strada già decisa da Palazzo Vecchio che ha steso il progetto per il quartiere e lo ha finanziato con 550 mila euro, uno spreco per Paolo Marcheschi di Forza Italia. Campo di Marte è uno dei pochi quartieri che ha una buona vivibilità, la linea 17 funziona bene fino al centro, non si capisce perché si debba spendere soldi per togliere i parcheggi ai residenti. Tutto dunque ruota attorno ai posti auto. Il presidente del quartiere 2 Gianluca Faolucci sostiene il progetto comunale di potenziamento del trasporto pubblico anche su gomma, ma ha chiesto accorgimenti tecnici e compensativi, ovvero se si tolgono parcheggi in una strada che si trovino in un'altra, per il vice sindaco un problema che si può risolvere. Fare le corsie riservate significa costringere, limitare la sosta alle macchine, è uno degli elementi fondamentali di contraddizione della situazione che stiamo vivendo.